gentili telespettatori buona giornata a di martedì da floris c'è jasmine cristallo è una degli esponenti delle sardine più in vista dopo santori c'è lei e quell'altro donno lì credo si chiami così ecco come prima come prima più di prima come prima quando c'erano le elezioni regionali le sardine erano venute andate di moda ecco erano la piazza alternativa salvini salvini faceva le piazze il centro sinistra non faceva piazze da tempo non aveva nessuna intenzione non sapeva neanche cosa andare a raccontare quindi salvini faceva le piazze e quelli di centro sinistra a casa perché non potevano manifestare in nessun modo e così nascono le piazze alternative fatte da elettori di centro sinistra che si riuniscono da soli si guardano in faccia con un ritagliato un pesce e questo faceva già capire che cos'era la sinistra una scatola vuota quindi gli elettori vanno in piazza da soli andavano in piazza da soli si guardavano in faccia dicendo non c'è nessun nostro politico che parla questa è una rappresentazione plastica di quella che era la sinistra un popolo senza esponenti politici è piaciuta questa come sono poetico e così adesso quelle sardine un po andate in disuso un po scadute ritornano alla ribalta perché si erano affezionati a zingaretti perché zingaretti aveva cancellato i decreti del cattivissimo salvini e allora sono corse al nazareno la sede del pd a dire no non può finire così non ci abbandonare zinga tu che sei tu che sei che cosa non si sa loro hanno visto in lui un idolo l'idolo che ha cancellato i decreti di salvini e allora adesso li rinvitano nuovamente nelle trasmissioni televisive a pontificare sono delle sardine un po più evolute hanno sono un po più addentro nella politica dopo dopo mesi si interessano quindi hanno un bagaglio di conoscenza politica un po più di prima ecco prima erano assolutamente imbarazzanti adesso lo sono ancora ma parlano un po di più di politica ecco in studio c'è anche carlo calenda che comincia a fare delle facce così no non dice niente forse perché rispetto a questa ragazza così con questa grande differenza di età non dice non dice neanche niente rimane lì la guarda ascolta ecco e lei dice così non siamo mai entrati lì con le tende al nazareno no dopodiché io penso che in questo momento è difficile accettare la narrazione di un pd che sta al governo con la lega beh la narrazione del pd che sta al governo con la lega molti del pd dicono no no al governo con la lega no e molti della lega dicono no no al governo col pd no però attenzione c'è un qualcosa di importante questa non è un'alleanza elettorale per andare a governare il pd alla lega vincono le elezioni dico ci mettiamo d'accordo andiamo a votare a governare noi abbiamo fatto la campagna elettorale dicendo mai col pd e mai con la lega e poi fatte le elezioni andiamo a governare quello sarebbe un alto tradimento al popolo che ha votato pd e lega in questo caso come io l'ho sempre ribadito è un governo aperto a tutti la lega è lì per non fare spadroneggiare il pd e 5 stelle e il pd è lì per non fare che governi solo la lega quindi sono tutti lì per controllare quello che fanno gli altri e per dire la propria opinione perché rimanere fuori significa significa non poter esprimere appieno la propria opinione non poter incidere sulle scelte di governo stare fuori lega berlusconi e salvini avrebbe comportato che da fuori potevano solo criticare e di nuovo pd 5 stelle leo avrebbero fatto quello che avrebbero voluto e così la questa si ragazza cristallo dice beh io poi sono meridionale e non ho mai creduto a salvini e non credo a una mutazione così repentina lei che è uno dei volti più conosciuti all'interno delle sardine conosciuta proprio in occasione delle elezioni regionali quelle in emilia romagna così floris l'ha invitata alla trasmissione per parlare proprio di quella occupazione che poi si è scoperto simbolica del pd mentre loro avevano fatto volutamente circolare una foto con santori nella tenda con sotto alla foto di berlinguer guarda un po quindi quella fotografia lì che non era stata fatta dentro la sede del pd era stata fatta arrivare in qualche modo messa all'attenzione dei giornali che poi c'erano cascati e avevano avevano pubblicato appunto la foto come dire hanno dormito nella sede del pd anch'io leggendo le agenzie di stampa ho fatto un video dicendo hanno dormito come siamo arrivati in basso hanno dormito nella sede del pd in realtà era tutta una montatura per fare scena per fare teatro poi sono arrivati a lanciarsi gli stracci addosso perché dalle sardine dopo aver parlato per quattro per quattro ore con la presidente del del partito sono arrivati a dire che mettono una testa sotto la sabbia cioè le sardine santori dice al pd mettono la testa sotto la sabbia e gliene ha dette poi un po no sono è un pd ha un simbolo tossico e così il pd poi ha risposto ma queste sono offese gratuite non non accettiamo di essere offesi però non dicono più di tanto perché questi sono loro elettori cioè le sardine sono elettori del pd che stanno dicendo questo simbolo è tossico quindi perché non mandano a quel paese le sardine perché vorrebbe dire mandare a quel paese i propri elettori in un momento in cui il partito è crollato nei sondaggi al 14 per cento e cristallo dice non abbiamo portato le tende ma noi non abbiamo mai parlato di occupazione dice che senza convincere in studio marco da milano che dice ma io sapevo che avreste visto sarremo alla nazareno che la sede del partito democratico ma come vi dicevo quella era una finta occupazione poi saranno andati in albergo a dormire ospiti di qualcuno ma floris dice ma almeno loro mutano rifilando così una stoccata al pd e alla sinistra in generale sempre più in preda all'immobilismo proprio quello che aveva fatto scattare le sardine ci siamo stancati diceva santori prima della spedizione a roma di una politica fatta sugli schermi e con decine di comunicati serve una proposta politica credibile e non spetta noi farla ma aspetta i partiti politici beh questo che dice intelligente una politica fatta sugli schermi cioè una politica fatta di internet di televisione e di tastiera ma non c'è una politica fatta nel territorio ormai la politica a parte salvini e che sempre in giro per l'italia li sono chiusi nei palazzi è una politica da teleschermo su questo ha ragione santori le sardine e anche floris io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti al prossimo video grazie grazie grazie